ciao ragazzi oggi sfida mostruosa giochiamo glubs questi mostri occhiolosi per una sfida adattissima a tutta la famiglia da 2 a 6 giocatori dai 6 a nessuna partita può durare circa 20 minuti dalle penne alle nostre abilità a concentrarsi sul campo di gioco partiamo come sempre delle istruzioni ragazzi avete presente quei giochi in cui bisogna riconoscere elementi uguali diversi sul campo di gioco beh qua non è così ma bisogna riconoscere delle cose in delle carte ovvero dobbiamo riconoscere quali sono gli elementi in maggioranza oppure minoranza con due varianti che sono il mega glubs il super mostro con le corda super colorato oppure la lente di grandimento ma partiamo dai protagonisti cioè proprio dai glubs che sono questi mostriciattoli dalle forme avete visto diverse quindi quadrato tondo e triangolo e poi abbiamo questo speciale che può sparigliare il gioco cioè se prendi lui hai tre punti e tutto il resto praticamente non vale e questi sono i tre colori vernici secchi o di vernice presenti sul campo di gioco questo invece è la simpatico fatto cerchio contatore dei punti per tenere il punteggio come funziona il gioco ragazzi allora queste sono le carte a se compare la lente di gradimento si può prendere qualsiasi cosa lo vedremo nel gameplay come funziona il gioco allora un giocatore quello di turno dichiara più glubs o meno glubs facciamo più glubs come dichiarazione e giriamo la carta una volta girata la carta col più glubs devo riconoscere qual è il colore e la forma in maggioranza allora il colore presente in maggioranza direi è sentato il rosso lo portiamo a casa più un punto qual è la forma più presente allora contiamoli sembra il quadrato così a occhio perché dobbiamo essere veloci mentre il giocatore più veloce si porta a casa l'elemento che è anche un po' squiscioso e i punti ovviamente ma in realtà non era il quadrato perché era il tondo quindi se prendo una forma sbagliata è meno uno e quindi in questo caso pareggio il più uno e meno uno se dichiaro meno glubs e giro la carta qual è l'elemento colore presente di meno non c'è proprio quindi di meno è proprio la vernice azzurra la forma invece presente di meno ragazzi provate a dare un'occhiata quadrato triangolo è invece proprio il tondo allora me lo prendo ragazzi eccolo qua sì 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 è proprio lui è presente solo due volte e me lo porto a casa in caso di pareggio si porta a casa entrambi gli elementi andiamo a vedere la sfida perché il gioco è veramente simpatico glubs sei pronta alla sfida mostruosa guarda il mio unico occhio questo allora abbiamo disposto il campo di gioco abbiamo accerchiato le carte con i nostri mostri barra colori e siamo pronti alla sfida ragazzi vince il primo che arriva sulla ruota al fatidico numero 36 pronta sfida che iniziale tu cominci il giocatore più giovane glubs oserei dire ci siamo inventati il pennarello del turno perché il gioco è così concentroso che non ci ricordiamo mai qual è il turno veramente e allora ragazzi faremo il pennarello del turno chi ha il pennarello inizia cioè dichiara più glubs gira la carta inizio io quindi allora pronti più glubs vai sì ma allora giallo e triangolare sì ragazzi allora io uno e tu due e io due perfetto ragazzi se volete controllare mettete il video in pausa e vedete cosa abbiamo visto correttamente dalla carta perché in effetti è a colpo doppio è colpo doppio così più glubs vai sono pronto non so perché scommesso sul quadrato sì allora quadrato e blu e giallo sono uguale ok quindi vado a quattro due e tu vai a due perfetto pennarello del turno oddio mi è arrivato un pennarello del turno allora meno glubs vai mega glubs è uscito il mega glubs gigante con le corna sì ok quindi vuol dire tre punti non lo trovavo ce l'avevo qua davanti eppure erano lì davanti cinque sei e sette perfetto vai a vedere il turno vai meno glubs meno glubs no ma come mi fai a trovarlo così veloce prima non l'ho trovato il mega glubs quindi vuol dire che siamo sempre lì allora 7 a 5 dammi il pennarello del turno allora pronti attenti più glubs ok tondo no ma cosa faccio 0 io 1 bene benissimo benone allora 1 quindi 8 perfetto io sono a 5 vai aspetta questo girato mare scusa perfetto più glubs più glubs tondo rosso e giallo tu hai preso il rosso giallo però aspetta il giallo è maggioranza ragazzi bisogna verificare perché sono più grandi quelli rossi e poi c'è anche la coda che ti dirò che fa il suo perché e quindi sono 1 9 chi va piano va sano vai lascia il pederario del turno perfetto pronti attenti meno glubs lente di ingrandimento vuol dire chi prende porta a casa tutto allora io ho 4 ecco io ho tutto il campo di gioco quindi sono a 13 ok ragazzi allora quindi e poi lente di ingrandimento spunta così non te lo aspetta assolutamente allora io faccio il cerchio magico di mostri barra colori barna mega glubs eccoci qua e ti lancio scusa ce l'hai tutti dalle tue parte ma facciamo un cerchio abbiamo fatto giustamente ok tocca a te più glubs ragazzi io direi che pari io direi che pari perché tu ce l'hai per le corna io ce l'ho per i piedi quindi pari e patta così è ragazzi così è perché c'era qua in mezzo il mega extra glubs se non si fosse capito se non si fosse capito giustamente allora perfetto passiamo il turno pari e patta non facciamo ok pronti stiamo girando il pennarello allora il turno allora pronte tenti meno glubs vai si allora quadrato perché ce ne due tondo perché ce ne due ho sbagliato era giusto io sono 0 giallo hai ragione vai più glubs più glubs ah si ma eh vabbè è andato sopra la casa eh vado un mancello eh vabbè però così è andata quando ce ne uno ti crea un attimo di eh esatto però è l'unico quindi giallo eh sì è facile veramente ok 15 perfetto allora ho il pennarello del turno eh sono 15 ma tu sei tu ma no eh vabbè dai può succedere di tutto metti che c'è un mega glubs adesso metti che vinco sei pronta ah pronti attenti più glubs mhm vai no volevo prenderlo io no l'ho presa io uffa due per te due per te ah attenti il pennarello del turno vai meno glubs rosso tondo no no hai esitato hai esitato Ale e quindi siamo 17 a 11 bene tocca te perché non ti ho passato il pennarello del turno sei pronta vai eh più glubs vai mega glubs gigante era così grande che non lo vedevo ok ah quindi sei 14 ah passami il pennarello del turno allora pronti attenti oh cosa però prima eh ragione giusto meno glubs vai no eh c'era il super mega glubs eh chi l'ha visto ah quindi tu tu meno uno io più tre ragazzi e vado a 20 passo la metà ragazzi è andata pennarello del turno vai è tua più glubs più glubs allora questa è uscita non dobbiamo vederla la metto dentro allora quindi ho fatto quadrato che è giusto mentre il colore ah e penso sia il giallo che il rosso invece era uno qua ah invece era il rosso ok ok quindi io vado a uno e vado a 20 vai a uno cioè vado più uno ok va bene ragazzi allora pronta attenta più glubs via no perchè ho preso questo eh scusate un glubs è partito in giro per la cucina Ale ritorna un glubs è partito in giro per la cucina quindi l'ho preso io si quindi ho preso meno uno vabbè 20 ok torno indietro io sono qui benissimo uno dice vado avanti vado vencere la partita non ce la posso fare no 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 meno glubs giusto è giusto sono tutti i cerchietti no blu esatto sì e quindi io ho uno beh ho smosso 21 17 vediamo il turno pronta più glubs ma no ma no ma come hai fatto a prendere tutta quella roba con la lente grandimento io ne ho preso uno solo avevo avuto un flash 6 madonna io ne ho solo 22 avete visto come si ribalta una partita ragazzi 23 mio sfavore mio sfavore mi sono piaciuta ho fatto uno allora sei già 23 io sono 22 mi hai passato così allora prendi lo scelto del potere prendi lo scelto del turno vai vai più glubs ok ok è tornata fuori due lenti di grandimento di fila ragazzi una raffica allora io ne ho presi 2,5 tu non va bene 25,2 ok io 27 sono tornato avanti e la quota è il 36 si avvicina ragazzi si avvicina la quota è il 36 ce la posso fare ora mettiamo bene il cerchio magico per più molto attento ok perfetto meno glubs pronti attenti via allora quello che manca manca il giallo manca il blu manca quello manca il quadrato sono presi 3 no io ho solo 26 30 30 è la decina che porta alla fine vai più glubs non vedo se metti la mano davanti scusa però mi è confuso ho capito ma avevi la mano davanti non vedo come c'è allora tecnica di gioco ragazzi no scusate non l'ho fatto apposta si è visto allora quindi hai fatto due punti quanto sei? 28 oddio la partita si sta infiammando allora concentrazione più glubs ahhh non si capisce è giallo si allora giallo è quadrato tu ne hai toccato uno non va bene ma basta toccarlo e quindi ne ho due tazzac e vado a 32 ma a 4 dalla vittoria non vuol dire non vuol dire non vuol dire se uscisse se uscisse se uscisse se uscisse la rete di andimento potrei farcela ehhh che mozio che mozio ehhh allora il tondo che mancava è rosso uh un punto a testa ragazzi la partita si fa seria allora meno glubs il quadrato il quadrato che non c'era uh che tensione ragazzi 34 29 uh e se c'è fuori una lente di grandimento adesso più glubs nooo non l'ho presa la blu è azzurra 31 a 34 uh ragazzi meno glubs io vado per l'opposto nooo ho preso questa non dovevo nooo e prenda 1 si perde a parca a chiacchierare 33 tu quanto sei? 33 no 33 pari come sempre vai tocca a te non ce la posso fare ehhh meno glubs allora il quadrato che non c'era e tu cosa hai preso? il rosso e il triangolo quindi io arrivo a 35 e io 1 a 34 ragazzi siamo lì lì allora pronti poteva essere quella decisiva più glubs no no ahahah ahahah è mia ahah questa è pari questa è pari però comunque io ne ho preso 1 tu devi presi 2 tu sei 37 io sono 35 nooo ragazzi ho perso di un soffio nooo nooo ci sono questi silenzi di incontro incredibili sembra veramente che non succeda niente poi succede letteralmente di tutto succede di tutto glubs glubs se l'avessi preso tu 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 complimenti non accreditaci fino alla fine c'è stata molta molta tensione veramente veramente complimenti uff mannaggia ci vuole un po' di ginnastica alle dita ci vuole ginnastica alle dita si perché quando siamo lì lì no così si lo so lo so lo so lo so ragazzi Però ho perso Io speravo Nel Mega Gloops Io ti giuro Mi aspettavo O il Mega Gloops Mi aspettavo la lente La lente era dopo No La lente era dopo No Non c'era più una lente Oddio guarda questo Era più di Gloops Era incredibile Qua c'era un Mega Gloops Ragazzi Gloops è veramente Un gioco fantastico Perché c'è concentrazione E c'è concentrazione Punto Cioè poi il giocatore Più o meno Le situazioni cambiano tantissimo E quando sei concentrato Su una cosa Spunta fuori il Mega E spunta fuori la lente Fantastico Ci è piaciuto veramente Un sacco ragazzi Se questo video Gloops Ragazzi vi è piaciuto Un bel pollicione Per domande Commenti e informazioni Aspettiamo Gloops Qua sotto nei commenti del video Mentre noi vi aspettiamo I prossimi video Qui su GBR Ciao ciao Davide Ale